Questo è certamente un giorno veramente speciale. Vi è stato già dato il benvenuto a voi tutti e lo scopo principale e di registrare ciò che verrà detto oggi per tutti gli ascoltatori che siano in questo Paese o in Canada o in qualche altra nazione. Ovunque questa predicazione possa essere ascoltata. Noi siamo molto, molto riconoscenti a Dio di vivere adesso. Questo è il tempo più importante nella storia dell'umanità. Alla prima venuta del nostro Signore ci fu una generazione che vide le promesse per quel tempo ad impiute. Adesso noi siamo la generazione che vive giusto prima della seconda venuta di Cristo. era importante alla prima venuta di conoscere le promesse collegate alla prima venuta del Signore. Il passo fondamentale della scrittura sul quale voglio basare ciò che dirò è in 2 Corinzi, capitolo 1 2 Corinzi, capitolo 1 e qui il verso 20 verso 20 Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il Sì e l'Amen alla gloria di Dio per mezzo di noi La vera fede è ancorata nelle promesse di Dio Romani capitolo 4 dice Abramo credette Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia quando egli credette Dio nel momento in cui il Signore Dio visitò Abramo parlo con lui ed egli lavò i suoi piedi mangiando e bevendo con Abramo dandogli la promessa fra un anno tua moglie Elisabetta in quel caso tua moglie Sara ne parlerò più tardi in merito a Giovanni Battista tua moglie Sara avrà un figlio lei aveva 90 anni Abramo aveva 100 anni come poteva accadere ma se leggete in Romani sta scritto Abramo non venne meno a motivo dell'incredulità no egli credette che Dio avrebbe fatto ciò che aveva promesso Dio si è preso la responsabilità di adempiere ogni promessa che egli ha fatto nella sua parola alla prima venuta di Cristo due promesse principali furono adempiute nel precursore Isaia capitolo 40 verso 3 dice una voce grida nel deserto preparate la via al Signore fate dei sentieri diritti al nostro Dio quello fu circa 800 anni prima che questa promessa fosse adempiuta in Malachia capitolo 3 verso 1 il Signore disse io vi mando il mio messaggero davanti a me per preparare la mia via davanti a me quando il tempo fu compiuto l'angelo Gabriele discese dal cielo Luca capitolo 1 dal verso 11 egli parlò a Zaccaria dandogli la promessa che sua moglie Elisabetta avrebbe avuto un figlio ed egli sarebbe andato davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore in Matteo capitolo 11 il nostro Signore ha confermato il ministero di Giovanni Battista quale adempimento di ciò che il Signore Dio aveva promesso nell'Antico Testamento in Marco capitolo 1 dal verso 1 fino al verso 3 i due passi della scrittura dell'Antico Testamento vengono menzionati Isaia 40 ed anche Malachia capitolo 3 ciò che voglio dire oggi a coloro che sono presenti e a tutti coloro che ascolteranno Dio ha un piano di salvezza e noi dobbiamo conoscere il piano di Dio e dobbiamo adattarci nel piano di Dio nella volontà di Dio nelle vie di Dio non possiamo andare nella gloria nelle nostre proprie vie con i nostri propri insegnamenti è impossibile il nostro Signore di sé se credete in me come ha detto la scrittura non come una chiesa non come una denominazione non come una grande persona ma come la scrittura dice è così importante credere l'originale parola di Dio dall'inizio alla fine e non accettare mai alcuna interpretazione ma ritornare alla parola di Dio alla prima venuta di Cristo più di cento profezie dell'Antico Testamento furono adempiute ogni cosa era scritta e divenne una realtà con la nascita del nostro Salvatore come viene detto nell'Antico Testamento dove egli sarebbe nato come sarebbe stato il suo ministero in merito alle sue sofferenze in merito alla sua morte voi potete leggerlo in tutto l'Antico Testamento e secondo Luca capitolo 24 quando tutto fu terminato e il Signore era risorto egli radunò i suoi discepoli e per 40 giorni condivise con loro la parola di Dio e poi egli aprì il loro intendimento per sapere cosa dice la scrittura ciò che Dio ha detto attraverso Mosè nei salmi nei profeti affinché loro comprendessero questo è l'adempimento di tutte le promesse che Dio ha fatto nell'Antico Testamento ma adesso passiamo al punto veramente triste le persone aspettavano fin dalla prima promessa che fu fatta in Genesi capitolo 3 verso 15 quando il nostro Signore disse che la semenza di Dio sarebbe venuta attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente fino all'ultima promessa nell'Antico Testamento egli verrà nel suo Tempio Santo tutte le promesse sia nel Salmo 22 o Isaia 53 tutto ciò che era scritto nell'Antico Testamento ogni cosa concernente la prima venuta del Signore fu adempiuta ma poi la parte triste 4.000 anni erano passati e quando il Signore venne la scrittura dice in Giovanni capitolo 1 egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto loro avevano le loro riunioni i sacrifici cantavano i salmi osservavano il sabato ogni cosa sembrava essere in ordine ma era soltanto un ordine religioso non non l'ordine divino non l'ordine di Dio e poi secondo Luca capitolo 19 il nostro Signore salì sul monte degli olivi guardo su Gerusalemme e cominciò a piangere amaramente e voi leggete dal verso 41 quante volte ho voluto radunarti come la chioccia raccoglie i suoi pulcini ma tu non l'hai voluto e poi egli pronunciò il giudizio se noi manchiamo il giorno della visitazione di Dio allora soltanto il giudizio rimane ma ora in riferimento alla seconda venuta di Cristo molti credono molti predicano al riguardo ma quali sono le dirette promesse che Dio ha fatto che devono essere adempiute prima che il nostro Signore ritorni in Giovanni capitolo 14 dal verso 1 al verso 3 il nostro Signore disse io vado a prepararvi un luogo poi ritornerò e vi prenderò affinché siate dove sono io quella è una promessa e questa promessa sta per essere adempiuta con i figli della promessa se io condivido con voi l'importanza delle promesse di Dio lo ripeto la vera fede è ancorata nella parola promessa di Dio se non avete una promessa allora avete soltanto religione immaginazione voi avete bisogno di una promessa affinché la vostra fede sia ancorata come era con Abram ora la seconda venuta di Cristo sarà una realtà e prima della seconda venuta di Cristo ci deve essere una restaurazione della vera chiesa di Gesù Cristo adesso noi abbiamo molte molte denominazioni molte anche nel cristianesimo fino alla denominazione del pieno Vangelo e ministri che parlano del tempo della fine e noi crediamo che adesso siamo nel tempo della fine ma quali sono le promesse per la chiesa quali sono le promesse per Israele quali sono le promesse in generale che ora vengono ad impiute andate in Matteo 24 andate in Marco 13 andate in Luca 21 dove il nostro Signore in generale ha parlato delle cose che avrebbero avuto luogo prima del suo ritorno guerre rumori di guerre terremoti tutte queste catastrofi che sarebbero venute sulle nazioni ma poi egli ha fatto un'importante dichiarazione imparate dal fico è una parabola ma è una realtà è l'adempimento della scrittura nei nostri giorni già nell'antico testamento in Osea capitolo nove verso dieci Dio paragona Israele con il simbolo del fico e il signore disse dopo aver parlato di questa generazione prima che egli ritornasse ha parlato in merito ad Israele che ritorna nella terra promessa da 150 nazioni essi ritornano e nel 1948 dopo duemila anni lo Stato di Israele fu annunziato quando Ben Gurion un uomo nato in Russia emigrato in Israele pronunciò la dichiarazione dello Stato di Israele il nostro signore ha detto tre volte quando vedrete tutte queste cose ad empiersi allora sapete voi non sognate non supponete non vi meravigliate voi sapete avete la certezza divina sapete che questa è la generazione della quale il nostro signore ha detto questa generazione non passerà finché tutte queste cose siano adempiute ed egli disse alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina giusto come il popolo di Israele ritorna nella terra promessa perché perché quando il signore si rivelerà a loro non sarà a Chicago non sarà a New York sarà a Gerusalemme sarà in Israele ma essi devono ritornare da tutte le nazioni nella terra promessa per avere parte nell'attempimento delle promesse date a loro nella stessa maniera noi quali credenti di Cristo noi da tutte le nazioni e ad ogni modo al primo momento il signore dio visitò Abramo secondo genesi capitolo 12 e gli fece la promessa che tutte le nazioni sarebbero state benedette e se andate in Galati capitolo 3 tutte le nazioni vengono benedette in Cristo Gesù il nostro Signore sono molto felice di dire che Dio mi ha dato il privilegio non soltanto di vivere adesso ma di essere arrivato a comprendere le promesse per noi e per favore comprendete noi dobbiamo essere nella promessa per questo tempo per avere parte in ciò che Dio fa proprio adesso noi non celebriamo il cristianesimo noi non abbiamo bisogno di musica per danzare non abbiamo bisogno di persone che cadono all'indietro e ad ogni modo tutti gli uomini di Dio sono caduti sulla loro faccia tutti 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 gli uomini di Dio sono caduti sempre sulla loro faccia mai all'indietro neanche una sola volta è così importante per noi conoscere le promesse per questo giorno e la prima è l'antico testamento confermato nel nuovo nello stesso profeta malachia capitolo quattro il nostro signore ha fatto la promessa io vi mando Elia prima che venga il grande e terribile giorno del signore per volgere i cuori indietro a Dio e se andate in Matteo 17 è semplicemente meraviglioso sul monte della trasfigurazione i tre discepoli e il signore erano là Mosè ed Elia apparvero e Pietro disse è meraviglioso essere qui costruiamo tre tabernacoli e quello fu il momento quello fu il momento in cui la voce fu udita questo è il mio diletto figlio ascoltatelo in Matteo capitolo 3 verso 17 quando egli fu battezzato questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto in Matteo capitolo 17 questo è il mio diletto figlio ascoltatelo è così importante non soltanto di credere in Gesù Cristo come vostro salvatore ma di credere alla sua parola di ubbidire alla sua parola e la in Matteo 17 il nostro Signore diede la risposta alla domanda nel verso 10 perché gli scribbi dicono che Elia deve prima venire e la sua risposta è stata o è nel verso 11 in verità io vi dico Elia deve venire e ristabilire ogni cosa anche in Marco capitolo 9 nel verso 12 e poi il nostro Signore ha confermato il ministero di Giovanni Battista che venne nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore una promessa fu adempiuta allora e l'altra promessa è stata adempiuta nel nostro tempo ora per favore ricordate voi dovete prendere tutti i passi della scrittura anche atti capitolo 3 dal verso 17 che Dio avrebbe mandato un tempo di refrigerio dalla presenza del Signore e poi sta scritto in merito a Cristo egli rimane accolto nei cieli fino al tempo della restaurazione di tutte le cose come il profeta Elia prese le dodici pietre secondo le dodici tribù e riedificò l'altare del Signore e mise il sacrificio sull'altare e verso l'acqua sul sacrificio e poi egli pregò che si sappia oggi che tu sei l'unico vero Dio e io sono il tuo servitore e ho fatto tutte queste cose secondo la tua parola e quello fu il momento in cui la scrittura fu adempiuta primo re capitolo 18 verso 37 che il Signore volse i cuori da Baal da Astarte da tutte queste direzioni di nuovo indietro a Dio questo è lo scopo del ministero adesso prima del ritorno di Cristo non essere coinvolti nella politica ma la genuina parola di Dio per il nostro giorno adesso per essere sincero se io non potessi condividere con voi ciò che Dio ha fatto per confermare la sua parola per adempiere le sue promesse perché dovrei essere qui allora dovrei essere qui giusto per avere un servizio religioso voi avete servizi religiosi dall'epoca passata non avete bisogno che qualcuno venga per avere un servizio religioso noi siamo radunati qui nel nome del Signore Gesù Cristo e sono qui per dirvi la verità giusto come Giovanni Battista poteva dire colui che mi ha mandato mi ha detto colui sul quale vedrai lo Spirito Santo scendere questi è lui Giovanni capitolo 1 nella stessa maniera cari per favore non vi offendete ma l'11 giugno 1933 quando il fratello William Branham stava battezzando nel fiume Ohio era la sua prima campagna evangelistica con la tenda egli era stato ordinato dal dottor Davis in una chiesa battista ma poi una speciale chiamata venne nella sua vita e l'11 giugno 1933 quando stava per battezzare la diciassettesima persona all'incirca 4.000 persone stavano sulla riva del fiume Ohio per guardare i battesimi avvenne che la luce soprannaturale visibile per ogni persona presente scese dal cielo e da quella luce soprannaturale la voce disse queste parole come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo tu sei mandato con un messaggio o il messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo molti svennero molti si inginocchiarono per pregare io ho incontrato delle persone nell'aprile 1966 a Jeffersonville Indiana che erano presenti l'11 giugno 1933 quando questo accade e cari io ho avuto il grande privilegio nell'arco della mia vita di conoscere questo uomo di Dio personalmente essendo presente nelle sue riunioni in Germania negli Stati Uniti viaggiando con lui nella stessa macchina mangiando alla stessa tavola sono un testimone oculare e auricolare io posso dire come l'apostolo Pietro e anche come Giovanni l'apostolo ciò che i nostri occhi hanno veduto e le nostre orecchie hanno udito della parola della vita questo lo annunciamo a voi io ho visto Gesù Cristo lo stesso ieri oggi e in eterna io ero presente nelle riunioni quando il soprannaturale aveva luogo quando il fratello brano venne in germania egli ovviamente non parlava una sola parola in lingua tedesca ma nella fila di preghiera all'incirca 20-25 persone in ogni riunione erano nella fila di preghiera e Dio gli mostrava in visione chi era la persona da dove veniva quale malattia aveva potete immaginare questo e poi egli si riferiva a Giovanni capitolo 5 versi 19 e 20 il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente egli si riferiva al ministero che aveva il nostro signore quale figlio dell'uomo in Giovanni capitolo 1 egli disse a Nathanaele prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto sotto l'albero il nostro signore salvatore doveva essere un profeta perché Mosè aveva detto in Deuteronomio 18 Dio vi susciterà di mezzo ai vostri fratelli un profeta come me così nel ministero del nostro signore c'era questo aspetto profetico egli poteva dire alla donna al pozzo tu hai avuto cinque mariti e quello che hai adesso non è tuo marito egli poteva dire andate nel villaggio e incontrerete un uomo che trasporta dell'acqua ditegli il maestro mangerà la pasqua in casa tua quello era il segno visibile del messia in quel giorno e questo segno del messia il nostro signore l'ha esercitato soltanto agli ebrei e ai samaritani mai alle nazioni gentili e anche in Matteo capitolo 10 il nostro signore disse andate soltanto alle pecore perdute di Israele non andate alle nazioni il nostro tempo non era ancora venuto ma poi dopo la risurrezione il nostro signore disse andate in tutto il mondo predicate il Vangelo e battezzateli c'è un ordine divino nel piano di Dio così noi comprendiamo che prima del ritorno di Cristo tutte le cose devono essere riportate nella condizione in cui erano all'inizio una sola fede un solo signore un solo battesimo ogni cosa restaurata restaurata oggigiorno le persone ritornano ad ogni decisione presa al concilio di Nicea nel 325 o nel concilio di Calcedonia nel 381 o nel concilio di Efeso nel 431 e si torna indietro torna indietro ma noi ritorniamo alla parola di Dio in ogni insegnamento in merito alla Deità in merito al battesimo in acqua in merito alla cena del Signore noi ritorniamo alla parola di Dio e per favore comprendete questa dichiarazione nella giusta maniera dal 1949 ho partecipato alle conferenze internazionali dove gli americani e persone da altre nazioni erano presenti io conosco tutte queste persone che voi potete conoscere personalmente ma per essere sincero loro tutti sono rimasti nelle loro denominazioni nei loro insegnamenti ed edificano il proprio regno nel regno di Dio ma c'era un uomo un uomo il cui ministero di insegnamento ed anche apostolico e profetico poteva essere paragonato con la parola di Dio come cerco di dire quando il fratello Brennan venne in Germania egli poteva dire sorella tu vieni da Hamburgo tu lavori come infermiera in ospedale io ti ho vista mercoledì scorso sei entrata nella tua stanza hai aperto la finestra e hai guardato verso il parco e hai pregato signore fammi essere nella riunione a Karlsruhe quando il tuo servitore verrà per ogni persona per ogni persona nella fila di preghiera il signore gli mostrava una visione e le persone nate cieche ricevevano la vista gli storpi venivano guariti prendevano le loro stampelle e uscivano io l'ho visto e dalla prima riunione nell'agosto 1955 avevo soltanto un desiderio di conoscere ciò che questo uomo di Dio credeva cosa insegnava come battezzava perché vedi che Dio era con lui e potevo sapere quel tanto che nessuno può fare queste cose a meno che Dio sia con lui così dal primo giorno nell'agosto 1955 sono stato in qualche modo collegato al suo ministero e ricordo il lunedì del 15 agosto quando sono andato nell'albergo dove gli stava io ho chiesto alla reception ho chiesto in quale stanza egli fosse e il gentiluomo mi disse non avete più bisogno di informazioni il gruppo sta entrando nella sala d'ingresso e prima che potessimo stringerci la mano egli si fermò mi guardò e disse tu sei un predicatore del Vangelo si girò alla sua sinistra verso l'uscita e disse tua moglie è là all'ingresso fu la prima volta che strinsi la mano di questo uomo di Dio e come ho detto essendo stato nelle riunioni avendo visto il soprannaturale la conferma della parola di Dio allora ho voluto conoscere lo scopo di un simile ministero non soltanto per essere preso su nella gloria con Dio ma per sapere qual era lo scopo di un simile ministero e come ho detto prima come Giovanni Battista fu mandato per precedere la prima venuta di Cristo a questo uomo di Dio fu detto il messaggio della parola di Dio che è stato dato per precedere la seconda venuta di Cristo per farla breve non sono qui per parlare di un uomo sono qui per parlarvi del Signore in merito al Consiglio di Dio in merito alle promesse di Dio per questo tempo ma siamo sinceri tutti coloro che rigettarono il ministero di Giovanni Battista mancarono il giorno della visitazione di Dio con tutti i salmi che cantavano con tutti i sacrifici con ogni cosa non potrebbe essere lo stesso nel nostro tempo che tutti continueranno nelle loro vie o troveranno grazia al cospetto di Dio per rendersi conto che questo non è soltanto il tempo della fine ma la fine del tempo della fine e se Dio ha detto io vi mando un profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore voi potete leggere in merito al giorno terribile in Isaia 13 dal verso 6 potete leggere in merito al ritorno del Signore in tutto l'Antico Testamento specialmente nel profeta Gioele capitolo 2 il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande giorno del Signore così prima che ciò accada prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue prima che le stelle cadano dal cielo Dio ha mantenuto la sua parola ha impiuto la sua promessa e ha mandato un profeta per portarci indietro indietro al principio indietro a dove la Chiesa era giusto all'inizio così per la grazia di Dio il mio ministero è direttamente collegato al ministero del fratello Brana e condivido con voi la mia testimonianza alcuni di voi conoscono la mia testimonianza ma per la grazia di Dio Egli mi ha chiamato io non gliel'avevo mai chiesto non sapevo che questo potesse accadere ma il 2 aprile 1962 è il giorno più importante della mia vita mi ero svegliato presto mi ero preparato per iniziare la giornata andai alla finestra apri la finestra tirai le tendine a destra e a sinistra e guardai fuori dalla finestra la stagione delle piogge era terminata un nuovo giorno stava per iniziare giusto prima che il sole spuntasse e ritornai nel centro della stanza feci una breve preghiera affidando il giorno al Signore stando in piedi guardando verso la finestra e poi accadde mentre guardavo verso la finestra la voce del Signore dall'alto ma dalla destra così nella mia lingua natia in tedesco mio servitore il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato io ti manderò in altre città a predicare la mia parola di colpo mi ritrovai sul pavimento di colpo sotto l'impatto di quella voce voi non potreste mai immaginare cosa vi provoca la diretta voce del Signore l'autorità in quella voce come ho detto caddi sul pavimento e dopo un po' potei stare in piedi ma le mie ginocchia tremavano così ma mi alzai in piedi e guardai verso la finestra e disse Signore loro non mi ascolteranno hanno tutto in abbondanza non sono pronti ad ascoltarmi avevo appena finito di dire queste parole quando il Signore parlò la seconda volta mio servitore il tempo verrà in cui ti ascolteranno in magazzina del cibo perché sta per venire una grande carestia e allora tu starai in mezzo alle persone per distribuire il cibo queste parole sono vere come ogni parola in questo libro così da quel tempo in quel tempo ancora lavoravo per il governo tedesco per 15 anni io ho predicato e lavorato guadagnandomi da vivere ma poi venne il tempo in cui dovevo servire il Signore ma ecco che forse non siete a conoscenza della nostra situazione tuttavia cari nel 1961 ci fu la crisi di Cuba la crisi di Berlino il muro fu costruito i carri armati russi erano da un lato e i carri armati americani dall'altro lato non sapevamo ciò che sarebbe accaduto in seguito e io pensai il Signore intendeva dire una carestia di cibo naturale sono sincero con voi sono semplicemente un essere umano come voi Elia era un uomo come noi e abbiamo immagazzinato del cibo naturale pensando che sarebbe venuta qualche tragedia sulla nostra nazione e poi le persone sarebbero state pronte ad ascoltare la parola di Dio tuttavia non venne alcuna tragedia ma io presi il volo per vedere il fratello Branham e sono riconoscenti al Dio Nipotente per quella decisione così incontrai il fratello Branham il 3 dicembre 1962 e per la grazia di Dio egli ripetè in lingua inglese le parole che il Signore mi aveva detto in lingua tedesca e disse fratello Frank tu hai frainteso hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale e hai immagazzinato del cibo naturale Dio manderà una carestia di ascoltare la sua parola e il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa di Dio per questo giorno alla fine di quella conversazione e gli disse fratello Frank aspetta con la distribuzione del cibo finché riceverai il resto del cibo così cari voi non potreste mai comprendere la responsabilità che si ha con una diretta chiamata divina e questa chiamata è collegata al piano di salvezza al tempo della fine l'ultimo messaggio risuona in tutte le nazioni come il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 24 verso 14 questo Evangelio del Regno sarà predicato a tutte le nazioni e poi verrà la fine così ogni cosa deve essere predicata deve essere insegnata deve essere restaurata nella condizione in cui la Chiesa era al principio per favore non prendetela male ma ci sono terminologie che non sono mai state usate nella Bibbia e perciò noi non le usiamo noi crediamo che c'è soltanto un Dio non tre eterni né tre onnipotenti né tre onnipresenti ma un solo Dio e questo Dio che dimorava nella sua pienezza di luce spirito e vita lungo tutta l'eternità nessuno ha mai visto Dio in ogni tempo ma al principio l'invisibile Dio che è spirito uscì dall'eternità ed entrò nel tempo camminava nel giardino dell'Eden creò tutte le cose tramite la sua parola di potenza creò Adamo alla sua stessa immagine e lo stesso Dio si è rivelato lungo tutto l'Antico Testamento dando le promesse riguardo al Salvatore anche riguardo alla nascita del nostro Signore Gesù Cristo tu sei mio figlio oggi ti ho generato Salmo 2 verso 7 una vergine concepirà e partorirà un figlio Isaia capitolo 7 verso 14 e nel capitolo 9 il suo nome sarà chiamato voi conoscete le scritture così la promessa riguardo al figlio fu data lungo tutto l'Antico Testamento e quando il tempo fu compiuto l'angelo Gabriele venne a Maria annunziandole la nascita del figlio di Dio nel momento in cui lei credette la promessa che le fu data lo Spirito Santo la dombrò e il messaggio era quello che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio Gesù Cristo è l'unigenito figlio di Dio la parola unigenito significa che Maria non aveva niente a che fare con ciò come scritto nel Salmo 22 tu mi hai posto nel grembo di mia madre era tutto da Dio tutto da Dio manifestato nella carne così noi comprendiamo se ci sono terminologie che vengono usate come trinità e così via noi semplicemente non le usiamo perché non si trovano nella Bibbia e se non è nella Bibbia allora non è biblico finito finito se è biblico deve essere nella Bibbia se non c'è allora non lo è così noi comprendiamo che Dio si è rivelato per la nostra salvezza come nostro padre nel cielo nel suo unigenito figlio il nostro salvatore sulla terra Emanuele Dio con noi e noi tramite lo Spirito Santo Dio sopra di noi con noi in noi tre manifestazioni dello stesso Dio che adempie il suo piano di salvezza e ci dà l'adozione quale figli e figlie di Dio piazzandoci indietro nella nostra posizione originale che noi dovremmo avere sempre e che avevamo perduto ed ogni cosa che era stata perduta tramite Adamo è stata riparata tramite il secondo Adamo per la grazia di Dio e perciò il nostro salvatore poteva dire in Giovanni capitolo 20 io vado al padre mio e padre vostro al Dio mio e Dio vostro noi siamo i primogeniti come egli era il primogenito non possiamo entrare in tutti questi dettagli ma se leggete le scritture molto attentamente allora noi preghiamo soltanto padre nostro che sei nei cieli non ho mai sentito qualcuno pregare nostro figlio che sei nei cieli non ho mai sentito qualcuno pregare nostro spirito santo che sei nei cieli non l'ho mai sentito dire fino a questo giorno non l'ho mai sentito mai la Bibbia non ha mai detto una sola volta Dio e il figlio neanche una sola volta neanche una sola volta la Bibbia ha detto Dio lo spirito santo ma 26 volte di fila benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo alla nascita del nostro Salvatore secondo Luca capitolo 2 verso 11 oggi Cristo il Signore è nato nella città di Davide e nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito Santo e poi quando veniamo al battesimo cari fratelli e sorelle permettetemi di essere molto schietto con voi il nostro Signore ha dato l'incarico andate in tutto il mondo ammaestrate tutte le nazioni ma prima che loro potessero ammaestrare le nazioni egli parlò loro per 40 giorni l'Apostolo Pietro era presente quando il Signore condivise la parola con i Suoi discepoli dopo la resurrezione e gli udì il Signore dire andate in tutto il mondo ammaestrate tutte le nazioni battezzandoli nel nome singolare 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 è Padre un nome voi siete Padre ma quello non è il vostro nome voi siete un figlio ma quello non è il vostro nome così qual è il nome il nome del patto del Nuovo Testamento il nome che è sopra ogni nome soltanto nel quale c'è la salvezza Dio si è rivelato Dio si è rivelato quale Padre Figlio e Spirito Santo nel Nuovo Testamento nel nome del patto Yahshua nella nostra lingua è Gesù e la parola ebraica Yahshua significa Yahweh Salvatore nell'Antico Testamento Egli era Yahweh Nello Testamento Egli è Yahweh Salvatore lo stesso ieri oggi è in eterno il quale poteva dire prima che Abramo fosse io sono il grande io sono io conosco il Signore personalmente non vi preoccupate e per la grazia di Dio conosco la sua parola tramite rivelazione divina e così sono qui oggi per farvi sapere che tutti i credenti nei giorni degli Apostoli anche dopo il secondo secolo furono battezzati per inversione nel nome del Signore Gesù Cristo in Atti capitolo 2 capitolo 8 capitolo 10 Atti capitolo 19 Romani capitolo 6 e voi potete continuare e continuare ogni battesimo che ha avuto luogo dei giorni di Pentecoste è stato fatto nel nome del Signore Gesù Cristo realizzando e riconoscendo che quello è l'unico nome che ci collega con Dio Emanuele Dio con noi così il fratello Branham ha dovuto enfatizzare l'insegnamento in merito alla Deità in merito al Battesimo in Acqua riportandoci all'originale fondamento posto dagli Apostoli e dai Profeti e comunque io ho dovuto studiare la storia della Chiesa andando da una nazione all'altra io devo sapere di cosa parlo è stato nell'anno 337 quando Costantino era disteso sul letto di morte e gli ebbe il desiderio di diventare un cristiano e poi il Vescovo venne e fu la prima volta che gli portò dell'acqua con sé e immerse la mano nell'acqua e la mise sulla fronte la immerse di nuovo e ancora di nuovo nella formula di Padre Figlio e Spirito Santo nell'anno 337 così noi comprendiamo che se Dio manda un profeta egli non può andare avanti con tutti gli insegnamenti delle Chiese con tutto ciò che hanno recato nella storia della Chiesa un vero uomo di Dio deve ritornare a Dio deve ritornare alla parola di Dio dunque solitamente io dico che il primo e l'ultimo sermone devono essere gli stessi il primo e l'ultimo battesimo devono essere gli stessi per favore non vi ingannate non dite oh Dio mi benedice meraviglioso alleluia io vado non lo fate non lo fate questo tempo è passato questo tempo è terminato questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio di ascoltare la parola di Dio per ritornare con tutto il cuore in ogni maniera indietro alla parola di Dio perché il nostro Signore ha detto in Giovanni 17 verso 17 santificali nella verità la tua parola è la verità permettetemi di fare questa dichiarazione con tutto il mio cuore non c'è un solo errore nella Bibbia nessun errore nella Chiesa di Gesù Cristo è tutta la verità noi abbiamo dito la verità e siamo anche nati di nuovo cari molti ce l'hanno come insegnamento ma noi dobbiamo avere la nuova nascita come esperienza ogni cosa la conversione la nuova nascita il battesimo dello Spirito Santo devono essere la nostra esperienza non soltanto un insegnamento noi dobbiamo ritornare in ogni maniera così comprendiamo per la grazia di Dio come ci siamo riferiti in Atti capitolo 3 Gesù rimane nel cielo fino al tempo della restaurazione di tutte le cose e poi la promessa mi sono riferito a Malachia capitolo 4 io vi mando questo è ciò che Dio ha detto è il così dice il Signore nella sua parola io vi mando Elia il profeta prima che venga il giorno del Signore se lo leggete il primo sermone che l'Apostolo Pietro predicò il giorno di Pentecoste in Atti capitolo 2 verso 20 egli si riferì a questo verso dell'Antico Testamento il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue Atti capitolo 2 verso 20 perché enfatizzo che il primo e l'ultimo sermone devono essere gli stessi nello stesso sermone l'Apostolo Pietro tramite l'ispirazione dello Spirito Santo disse ravveretevi ciascuno di voi e siete battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo chi è quella persona sulla terra che vorrebbe rinnegare la genuina parola di Dio che vorrebbe rinnegare il vero battesimo chi è quella persona può essere soltanto l'Anticristo e tutti coloro che sono sotto il suo dominio dunque io non ho mai fatto un compromesso ho cercato di essere un gentiluomo ma quando si arriva alla parola di Dio ho una responsabilità non voglio avere sangue nelle mie mani voglio essere puro e fratelli e sorelle e cari amici la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli essa va da in crambi le parti essa taglia 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 mai un compromesso dunque per la grazia di Dio il Signore ha mantenuto la sua promessa ha mandato un profeta prima che il sole sia mutato in tenebre prima che la luna sia mutata in sangue prima che le stelle cadano dal cielo prima che il tempo della grazia sia passato cari Matteo 25 ecco lo sposo viene uscite gli incontro uscite gli incontro 2 Corinti capitolo 6 la scrittura dice voi popolo mio uscite di mezzo a loro e separatevi dice il Signore allora io vi riceverò e voi sarete mie figli e mie figlie io sarò il vostro Dio Dio non fa compromessi egli separa e se andate in ebrei capitolo 10 soltanto nella perfetta volontà di Dio noi siamo perfezionati in Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore voi dovete essere nella parola di Dio per essere nella volontà di Dio e se siete nella parola di Dio siete nella volontà di Dio la tua volontà sia fatta in terra come fatta in cielo concludendo diciamo queste parole questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio di ascoltare la voce di Dio di rispettare ogni parola di Dio e non spiegare mai o interpretare mai la scrittura ma semplicemente averla rivelata dallo Spirito Santo e poi a tutte le domande viene il risposto e voi potete essere certi che quando il Signore ritornerà voi sarete in mezzo a coloro dei quali è scritto in Matteo capitolo 25 verso 10 quelle quelle che erano pronte entrarono con lui alla cena delle nozze e la porta fu chiusa siete preparati vi state preparando solitamente parlando in modo naturale se c'è un matrimonio annunciato non tutte le donne si preparano ma soltanto la sposa se viene annunciato un matrimonio nella vostra chiesa o comunità tutte le altre donne rimangono come sono ma la sposa che ha la promessa lei si prepara per quel giorno del matrimonio e così soltanto coloro che appartengono alla sposa di Gesù Cristo si prepareranno saranno pronti per incontrare il Signore quando Egli verrà e quando ho iniziato questo ministero internazionale nei passati 50 anni ho visitato esattamente 155 nazioni e Dio mi ha fatto grazia di condividere la sua parola il messaggio dell'ora l'insegnamento l'insegnamento apostolico con milioni e milioni di persone anche adesso abbiamo un ministero televisivo in 40 posti differenti iniziando con la Nuova Zelanda Australia in moltissime nazioni in diverse lingue oggi siamo qui e chiederemo la speciale benedizione di Dio sui fratelli e le sorelle di lingua rumena la Romania è stato uno dei miei primi paesi nel 1968 ho viaggiato con la mia macchina lungo tutta la via per andare in Romania per predicare insegnare condividere la parola di Dio e la Romania è la nazione più benedetta in tutta l'Europa anche circa quattro settimane fa quando abbiamo avuto una speciale riunione dove 2000 persone erano radunate da tutta la nazione Dio ha benedetto il nostro fratello Daniel in modo veramente speciale e altri fratelli con lui per condividere il messaggio del loro così cari voi di lingua rumena Dio vi benedica in modo veramente speciale ho ascoltato il fratello che ha detto alcune parole in lingua francese Dio ti benedica e sia con te da tutte le nazioni da ogni lingua il Signore raduna il suo popolo da una estremità all'altra come ho detto prima Dio fece la promessa già con Abramo che tutte le nazioni sarebbero state benedette termino con una meravigliosa esperienza quando ho iniziato questo ministero ho fatto un patto con il Signore dicendo caro Signore sii con me non dirò tutte le cose che ho menzionate in quel patto ma alla fine dissi caro Signore fammi grazia fammi grazia che tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalle mie labbra e crederanno in te che io possa vederli di nuovo nella gloria dunque non si tratta del fratello Frank si tratta di Gesù Cristo si tratta della parola di Dio del messaggio dell'ora è l'ultima chiamata uscite siate pronti perché il ritorno del nostro Signore è vicino è imminente termino dicendo questo nel gennaio 1981 ho avuto un'esperienza veramente speciale ero stato portato in ospedale con la malaria tropicale che avevo preso in Ghana da quattro punture di zanzara e non c'era possibilità per me di vivere i medici mi avevano abbandonato e fui portato in una stanza e c'era una tenda a destra e una tenda a sinistra e io sapevo sapevo che stavo per andarmene non potevo più parlare ma volevo dire Signore come sto nella Tua presenza e il momento successivo fui preso fuori da questo corpo sotto il cielo blu e quando guardai alla mia destra vidi una moltitudine vestita di bianco che nessuno può contare e tutti erano giovani tutti erano giovani e salivamo lentamente 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 perché dico questo ci sarà una sposa ci sarà un popolo pronto al ritorno di Cristo il ritorno di Cristo sarà una realtà e i morti in Cristo risusciteranno per primi e poi noi viventi in Cristo saremo mutati e insieme saremo presi in alto nella gloria tutte le promesse di Dio sono sì ed amen e noi siamo i figli della promessa come l'apostolo Paolo scrive in Galati capitolo 4 verso 28 voi fratelli alla maniera di sacco siete figli della promessa i figli della promessa credono la parola della promessa ricevono lo spirito della promessa e si preparano per il grande giorno del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo possa la benedizione dell'Onipotente Dio la sua grazia la sua misericordia possa la rivelazione divina esservi accordata che possiate essere purificati tramite il sangue dell'agnello e suggellati dallo Spirito Santo per il giorno della redenzione del nostro corpo maranata maranata il nostro Signore viene egli verrà presto egli ha benedetto e possa questa stazione essere benedetta i nostri fratelli che hanno questa stazione questo programma televisivo che possiate essere benedetti con la speciale benedizione dell'Onipotente Dio nel nome santo di Gesù amè alziamoci per un momento di preghiera prima che preghiamo vorrei chiedere quanti desiderano consacrare la loro vita al Signore di essere inclusi in questa preghiera di essere pronti per il ritorno di Cristo che lo abbiate giusto nel vostro cuore e Dio ve lo concederà questo è il vostro giorno possa la giusta decisione la decisione che fate oggi la porterete con voi ricevete la grazia di Dio ricevete il perdono dei vostri peccati ricevete vita eterna credendo in Gesù Cristo il vostro Signore e Salvatore siate lavati nel sangue dell'agnello e suggellati con lo Spirito Santo fino al giorno della redenzione nostro Padre Celeste io affido questo programma a te prego per tutti coloro che sono qui che non giudichino velocemente ma che comprendano che questo è il tuo tempo per il tuo popolo e possano riconoscere il giorno e il messaggio che possono vedere il segno del tempo che possano comprendere ciò che tu hai detto quando vedrete tutte queste cose adempiersi allora sapete che il tempo è vicino è alla porta Signore Gesù ti ringrazio per la chiamata al Ministero ti ringrazio per la porta aperta per i cuori aperti ti ringrazio per tutti coloro che credono come dice la scrittura benedici il programma benedici la stazione televisiva benedici questa nazione benedici l'Europa benedici l'Asia benedici l'Africa benedici ogni continente e possa il messaggio dell'ora raggiungere gli ultimi a te il Dio della gloria diamo tutta la lode tutto l'onore ora e per sempre nel prezioso e santo nome del nostro Signore Gesù Cristo e tutti dicano amén 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 alleluia amén potete sedervi grazie per l'invito e Dio vi benedica e sia con voi amén